Sittaco, ieri un primo passo importante è stato compiuto in Consiglio Comunale, l'approvazione del rendiconto 2019 con i voti della maggioranza e l'astenzione dell'opposizione. Sì, era un atto importante, un atto dovuto per iniziare a lavorare, quindi non sarebbe stato un ossimoro bocciarlo e quindi fermarci prima di iniziare. Quindi ricordo che il rendiconto non è il bilancio, vero e proprio, è un movimento di cassa che noi abbiamo ratificato proprio per iniziare la nostra opera amministrativa. Quali saranno i prossimi passi a questo punto? Vogliamo sicuramente dare ristoro e sostegno ai commercianti, vogliamo mettere mano ad un piano regolatore che permetta una migliore viabilità e accessibilità alla nostra città. A dicembre, prima di Natale, inaugureremo il tunnel che mette in comunicazione il centro della città con il terminal degli autobus. Quindi tante cose in cantiere. Se non avessimo approvato il rendiconto avremmo dovuto arrenderci già all'inizio. Tra l'altro, Sindaco, in vista di un possibile coprifuoco che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il DPCM della Presidenza del Consiglio, da questo punto di vista ci sarà molto lavoro anche per l'amministrazione comunale? Io ho aperto il COC, il Comitato Operativo del Comune, ho parlato più volte con tutte le associazioni di protezione civile per metterle in allerta nelle varie funzioni. Da un punto di vista sanitario, a livello di ospedale, diciamo, si stanno organizzando per poter accogliere i pazienti Covid. Certo, ci potranno sicuramente essere delle ripercussioni sulla gestione delle patologie croniche, però viviamo un'emergenza e come tale va affrontata con un po' di sacrificio per tutti.